Finalmente, tu ci sei in fondo la parola a Andrea De Maria che tocca il compito di dare diciamo delle provvisorie conclusioni rispetto a questo vastissimo dibattito, denso l'implicazione. Sì, grazie a più, io sono a dare un contributo, prima voglio complimentare anch'io con Anna Cara e gli altri segretari delle quattro unioni di quartiere, Anna Chiara ha avuto l'idea per prima, ma sono poi state costruite insieme con i due Francesco e con Rodolfo e con i gruppi dirigenti delle quattro unioni di quartiere perché abbiamo fatto una serata molto bella, molto interessante e credo anche che da parte, rispetto al lavoro che si è fatto, stasera è arrivato anche un contributo molto prezioso agli appuntamenti successivi che ci dovranno essere. Il mio contributo lo vorrei dare partendo ovviamente dal livello nazionale che è quello che mi compete di più, a partire da un ragionamento che faceva Vitale, insomma. Io penso che la cosa importante della legge del Rio è che finalmente le città metropolitane si possono fare. Poi la legge del Rio ha tante imperfezioni, temi da affrontare, da approfondire, ci tornerò dopo. Però è vero che dopo anni di discussione c'è una legge che consente di fare la città metropolitana di Bologna, per esempio. E questo lo richiede un fatto molto importante, insomma, che va a merito del governo guidato da Renzi e dell'azione anche parlamentare, insomma, che ha fatto il Partito Democratico. Ora è chiaro che il fatto che si sia fatto una riforma non vuol dire automaticamente che si faccia una politica conseguente. E se pensiamo a livello nazionale, insomma, è vero che l'intuizione delle città metropolitane lasceva dall'idea di individuare nel Paese alcune aree urbane che non solo avevano una particolare complessità di governo e quindi richiedevano uno strumento istituzionale specifico, ma che dovevano essere anche un po' il traino dello sviluppo del Paese. Cioè aree che per l'importanza economica, sociale, di abitanti che avevano nel Paese dovevano trainare lo sviluppo dell'inserio sistema territoriale. Matteo diceva bene, no? L'Italia è anche il Paese dei tanti comuni, no? Però è anche vero che è un Paese che ha bisogno, soprattutto in una fase di difficoltà della finanza pubblica, di individuare quali sono le realtà territoriali a cui si dà una vocazione particolare di guida della crescita e lo sviluppo per affrontare anche la crisi che abbiamo di fronte. E appunto quindi adesso dal fatto che c'è finalmente una legge che consente di fare le città metropolitane bisogna capire come questa legge diventa uno strumento perché alcune grandi aree urbane appunto siano al centro di un grande progetto di sviluppo del Paese. Con rispetto ai temi che avete posto nella discussione che attengono a livello nazionale, voglio dire come la vedo io insomma. Il tema dell'elezione diretta, il tema dell'elezione diretta è una questione nostra, dopo dirò il mio parere per quello che può contare, soprattutto un ruolo di altro genere insomma, ma devo dire che la legge del Rio su questo punto è un po' paradossale perché la legge del Rio prevede questo, che se l'area è interessata a più di un milione di abitanti si può fare l'elezione diretta senza scorporare il comune e capoluogo, mentre se ha meno di un milione bisogna scorporare il comune e capoluogo. Le ragioni politiche sono che evidentemente Milano, alcune Roma, per Roma la sua normativa è ancora diversa insomma, ma si sono fatti sentire diciamo in modo efficace, però oggettivamente questo è veramente, questo tipo di previsione non ci sta proprio, nel senso che se il problema è di non mettere il sindaco del comune e capoluogo in contrasto con il sindaco metropolitano eletto direttamente, questo avverrà di più quando il sindaco è quello di Milano, rispetto per esempio alla realtà bolognese, magari al limite sarebbe più ragionevole l'opposto, cioè che si devono dividere i capoluoghi più grandi come abitanti, e quindi io penso che anche nella norma nazionale su questo punto bisognerà tornarci insomma, questo non vuol dire non affrontare il tema dei municipi, dei quartieri, dopo ci tornerò, però questo sicuramente a mio avviso è una contraddizione che nella legge c'è e a cui dovremmo guardare. Il secondo punto l'ha detto anche secondo me con un intervento molto interessante, insomma il sottosegretario Barretta a questo seminario dove per l'altro c'era anche Marco che abbiamo organizzato, dove Walter era uno dei relatori, insomma come partito nazionale nella seconda edizione che abbiamo fatto recentemente. Se le città metropolitane sono la priorità su cui si investe per lo sviluppo del paese, questo deve avere una ricaduta anche nella disponibilità di risorse finanziarie, che vuol dire sia in un maggiore potere di autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, quindi una maggiore autonomia sulla fiscalità delle città metropolitane rispetto alle province e gli assenti istituzionali di altri territori e poi anche probabilmente una qualche flessibilità in più rispetto al fatto di stabilità e poi se ci sono delle risorse da allocare, siccome sono poche, una priorità le città metropolitane bisogna pensare di darle, perché questo tema delle risorse anche nazionalmente e obiettivamente esiste e credo che vada affrontato così. Poi c'è l'aspetto specifico del personale che è un aspetto molto serio, è chiaro che ha un problema immediato di gestione di una norma che nell'insieme delle province, compreso la città metropolitana, parla di 20.000 esuberi, intanto quelli sono lavoratori cittadini a cui bisogna garantire dei percorsi, tra l'altro sono persone che hanno capacità, professionalità, che hanno maturato negli anni e questo anche qui, però vediamo effettivamente che cosa farà concretamente poi a sua stione il governo, questo è un tema che va gestito anche a mio avviso con una regia nazionale, non si può lasciare solamente alla gestione regionale e territoriale, perché per esempio si potrebbe costruire un rapporto col Ministero della Giustizia che ha un problema serissimo di carenza di organici amministrativi, ma questo tipo di azione è un primo decreto che ha diversi aspetti che lo rendono non efficacissimo su questo, per esempio questo è un tipico tema di regia nazionale, però la questione del personale è anche una questione più di fondo, nel senso che un ente locale prima di tutto è fatto dalla sua struttura di lavoratori, di personale amministrativo, di dirigenti che lo fanno funzionare, peraltro che io sono fatto tanti anni l'amministratore, ho fatto per un breve periodo anche l'amministratore nella provincia di Bologna, per esempio il livello di qualità della provincia di Bologna è un livello altissimo, anche di risorse umane che sono fondamentali per fare decollare anche il progetto delle città metropolitane, però su questo tornerò dopo, poi c'è un tema di come si integrano gli uffici e i servizi a seconda delle funzioni che verranno assegnate alla città metropolitana, ma questo ci voglio tornare fra un attimo. Poi c'è un tema generale di politiche di bilancio verso gli enti locali, in questo caso riguardano tutti gli enti locali, che è un problema che nel Paese ormai ci trasciniamo da molti anni, forse da una ventina d'anni, che si è via via aggravato, ora in realtà dico finalmente, il tema del superamento del patto di stabilità per gli enti locali è un tema che si sta ponendo il governo, che avrebbe anche una scadenza nel 2016, il punto che almeno parlando anche con tanti amministratori di territori diversi è che mentre, per esempio ancora anche nella nostra realtà, fino a qualche tempo fa si poteva dire che sbloccando il patto di stabilità si liberavano risorse per esempio per gli investimenti che se no erano bloccati alle norme del patto, ormai il livello di taglia, la spesa degli enti locali è tale che il rischio che anche il beneficio della semplice superamento, riforma del patto di stabilità rischia di non essere quello che ci si potrebbe aspettare. Ora però se noi ragioniamo di finanza locale nel contesto attuale della finanza pubblica, secondo me dobbiamo fare un discorso onesto, i due temi veri da affrontare, che vanno affrontati anche con la forza politica necessaria sono una priorità nell'allocazione delle risorse, e ho detto appunto sul ruolo per me prioritario che devono avere per esempio le città metropolitane, questo ragionamento che ovviamente in questi termini è facile farlo quando si fa in una città metropolitana ma bisogna avere capacità di fare questo discorso al paese, e poi soprattutto la qualità della spesa degli enti locali, sono anni in cui tutte le norme sono fatte senza nessun criterio che premi gli enti locali che è maggiormente virtuosi nella gestione dei bilanci, peraltro creando il paradosso per cui essendo tagli lineari è più facile farli per quelle realtà che hanno una gestione dei bilanci meno seria. Su Roma abbiamo dovuto fare un po' di tutto per aiutare a affrontare questo in commissione finanze, quindi è abbastanza presente, diciamo e appunto il tema della qualità della spesa è un tema che secondo me non si può non cominciare a porre. E quindi le città metropolitane, anche a livello nazionale, dovrebbero essere davvero l'occasione per, fatta finalmente la legge, una grande stagione di riforma del sistema delle autonomie locali che ha avuto a mio avviso l'ultima, devo dire per me molto felice stagione riformista con le leggi Bassanini, perché credo che dobbiamo dire che la riforma del titolo quinto della Costituzione, il cosiddetto federalismo che abbiamo fatto noi e poi applicato il centro-destra, non è stata una stagione di felice riformismo, una stagione su cui credo vada fatta anche una riflessione critica che peraltro devo dire giustamente il governo Renzi sta aprendo e probabilmente se si fa una riflessione vera sul titolo quinto, davvero far partire le città metropolitane secondo me ne deve essere un punto centrale. Questo è l'aspetto nazionale, poi c'è un aspetto regionale bolognese su cui mi fa piacere dire un parere, poi sono temi che mi appassionano anche molto, poi ovviamente prometto che la funzione attuale è parlamentare nazionale, quindi io sarò prima di tutto a sostegno di chi guida l'amministrazione del partito bolognese per affrontare questi temi prima di tutto in un'azione che deve essere di legislazione nazionale e così via, però il parere ci tengo a dirlo. Il tema del rapporto con la regione è cruciale, secondo me parte anche la nuova giunta regionale, credo che il tema vada affrontato. Io penso peraltro, ma qui è noto anche il lavoro, la posizione politica che ho tenuto sull'elezione del Presidente della regione, penso che Bonaccini possa essere un riferimento prezioso per questo lavoro e penso che con la nuova giunta regionale è un lavoro importante, ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, forse più che in altre fasi storiche anche recenti. Certamente questo tema si gioca prima di tutto su quali funzioni la regione intende assegnare alla città metropolitana di Polonia, conseguentemente anche con le risorse umane finanziarie intende mettere in campo. A me quest'idea di un'attribuzione specifica di funzioni in materia di sanità, che Vitali evoca sempre utilizzando quell'esempio molto interessante di chi nomina il Direttore Generale, che ha una sua concretezza non rilevante, è un tema che anch'io condivido e che a me pare molto interessante e quindi questo è l'aspetto del rapporto con la regione. Poi c'è una riflessione che secondo me deve riguardare Bologna. Qui vi dico come la vedo, io penso che il sindaco Melola nella sua funzione di sindaco metropolitano con il nuovo consiglio metropolitano sullo statuto avrebbe fatto un ottimo lavoro, nel senso che è una delle prime città italiane che l'ha fatto e a me il testo, io sono appassionato del tema per varie ragioni, me lo sono letto, a me pare un testo molto ben fatto, che ha anche questo tema dei 24 mesi, che secondo me è un tema per un ente che avvia un percorso giusto, nel senso che davvero c'è una fase di rodaggio anche abbastanza naturale rispetto all'innovazione istituzionale di questo livello. Poi anche da noi, secondo me, paragonando statuto e legge del Rio, forse nello statuto si è fatto un lavoro particolarmente positivo, ma adesso c'è il tema di come lo si riempie sul piano delle politiche e anche io penso che qui ci sia tutto il ruolo del partito. Io condivido in pieno il richiamo che ha fatto Andrea Garofani sul tema del populismo, non si possono governare le istituzioni col populismo, però non si possono neanche governare le istituzioni in questa fase storica senza avere dietro il popolo. Quindi noi abbiamo un tema, secondo me, di elaborazione, di progetto, abbiamo un tema anche di un progetto che deve misurarsi con un forte grado di innovazione, come è stato detto, però che deve porsi anche il tema del consenso delle persone, ma non consenso perché bisogna che sa raccontare che cosa, perché bisogna avere dietro la nostra gente, secondo me, per affrontare una fase così difficile, così delicata. L'esempio dei municipi, della possibile divisione del comune di Bologna in municipi è il tipico esempio. La verità è che anche alla fine degli anni 90 tutti pensavamo che fosse la cosa da fare e dopodiché temevamo di non avere, oltre a problemi interni al partito che non ci sono solo adesso, ma temevamo di non avere dietro le persone, di non avere dietro la gente. Quindi in questo punto è il grande tema del partito, che ha un compito di elaborazione politica e anche di guida dei processi politici nel partito, delle forze politiche sociali, di guida dei processi politici nella società. Perché è vero che questa norma nazionale sul milione è un po' assurda, è anche vero che la doppia elezione diretta creerebbe un ingorgo istituzionale. Quindi l'elezione diretta vuol dire passare per i quartieri di Bologna che diventano municipi, è chiaro che in questo caso bisognerebbe dargli più funzioni tipiche che quelle che avrebbero gli altri comuni. È chiaro che il meccanismo quale sarebbe? I quartieri prendono maggiori funzioni e i comuni fuori rinunciano una parte delle funzioni verso la città metropolitana eletta direttamente. È facile dirlo, è un progetto così, ma va costruito. Come diceva Vitali, in Europa ci sono entrambi gli schemi, sindaco metropolitano in qualche modo di secondo grado, comunque del comune principale della città metropolitana e invece la forma di elezione diretta. Anch'io personalmente se dovessi dire, l'ho detto anche in una recente direzione provinciale del PD, la vera innovazione istituzionale sarebbe un ente forte a elezione diretta, però passa per scelte difficili e delicate, penso che avere 24 mesi per tanto cominciare a ragionarci sia obiettivamente la cosa migliore. Accanto al tema delle unioni, di cui Marco parlava benissimo, io segnalo anche tutto il grande tema delle fusioni dei comuni, perché una cosa sono le unioni, ma non abbiamo avuto l'esperienza della Valsamoza, adesso Sala Bolognese, Calterare e Sant'Agata stanno partendo, Porrette, Granaglione, non so se sarà anche Castel di Caso stanno partendo, quindi ci può essere anche un processo di rafforzamento istituzionale molto interessante, ma al conto condivido il fatto di valutarlo e di approfondirlo. Qui è stato detto della pianificazione territoriale, ecco, questa è una discussione che anche parlando del passante forse dovremmo fare, perché il PTCP che fu fatto diciamo tra il 99 e il 2004, che era sostanzialmente imperniato sulla scelta del passante nord, pensava al passante nord, era venuto da una proposta di campus venuti, poi raccolta da Tiberio Rabboni, dalla loro giunta provinciale, se ricordate anche in conflitto col comune di Bologna, perché fu anche legato a una dinamica politica. Quell'idea era che si metteva il passante lì e che poi quell'area lì diventava l'area di espansione urbana di Bologna, quindi quella era il cuore del PTCP. Rispetto a quel PTCP da un lato è accaduta la cosa che ha spiegato benissimo Matteo, cioè che lo strumento di governo provinciale non ha avuto la forza di imporsi sulle scelte dei singoli comuni, anche perché quei comuni spesso erano costretti a fare i bilanci con l'urbanistica, come è noto. Anche se invece il PTCP con l'obiettivo se l'era posto, però è un obiettivo che non è stato raggiunto e qui c'è il tema di avere una città metropolitana che abbia un rango, una forza istituzionale maggiore per fare questo tipo di ragionamento. Però forse adesso noi non pensiamo più che quell'area nord di Bologna debba essere oggetto di un particolare sviluppo urbanistico. peraltro per esempio il progetto di FICP è collocato diversamente. Io penso che fare una riflessione vera sulle scelte di pianificazione collegata anche alle scelte di infrastrutturazione e di mobilità è secondo me una discussione che si pone, ma non si pone perché anche io penso che non si possano ridiscutere tutte le volte le opere pubbliche. Però è vero che un certo modello di sviluppo del territorio metropolitano bolognese è stato messo a punto intorno al 2000-2001. Siamo in una stagione anche economica di sviluppo eccetera molto diversa e quindi secondo me questa riflessione può essere molto utile. Infine c'è tutto il tema legato alle funzioni, ma qui è stato detto bene, ho detto anche altre volte, ho visto da alcune nomine che sono state fatte, che state cominciando mi pare a ragionare in quest'ottica ed era un lavoro che Walter aveva impostato secondo me molto bene invece tra il 95 e il 99, di come gli uffici del comune capoluogo e quelli della provincia costruiscono sinergie fino a diventare gli uffici unici della città metropolitana. E questo secondo me è una questione vera di funzionamento molto importante. Infine questa riflessione secondo me deve riguardare anche il partito perché per esempio se facciamo la città metropolitana con Imola ha senso che esistano due federazioni del PD, una di Bologna e una di Imola, per esempio no? E penso che anche qui no? Se c'è una riflessione anche di partito io penso che anche questa e anche la riflessione di Imolese sta facendo dei passi avanti veloci eh? Perché adesso anche la piccola patria imolese, un po' Bologna quando serve, un po' Romagna quando serve, anche nella realtà imolese comincia a mostrare l'accordo, c'è una crisi economica molto seria, quindi il fatto che Imola debba essere agganciata alla città metropolitana di Bologna, anche il gruppo dirigente imolese nelle sue evoluzioni se lo sta ponendo di più. Ecco devo dire che insomma poi insomma chi intendo sostenere come segretario del PD di Bologna credo sia abbastanza noto perché quando c'è una cosa tendo a perseguirla con una certa determinazione, ma insomma una delle cose che mi è piaciuto della proposta insomma che ha avanzato Francesco Critelli è proprio anche questa, cioè lui propone che il nuovo segretario del PD promuova una grande conferenza programmatica del Partito Democratico Bolognese. Io l'avevo proposta anche al regionale un po' di tempo fa, una conferenza programmatica regionale, poi ormai non si è fatta e ormai il regionale è in una condizione diversa dalla Federazione di Bologna, come sapete dovrà fare il congresso, però che a Bologna ci sia un momento in cui davvero il partito riflette e per me riflette vuol dire chiedendo ai nostri compagni, amici iscritti nei circoli di fare discussioni tipo quelle di stasera, cioè di entrare nel merito, di approfondire, di discutere, vuol dire anche discutere con altri interlocutori perché immagino che una conferenza programmatica non sia solo fatto molto importante a riunire i circoli, intanto è dare protagonismo ai nostri amministratori, parleranno a dire cosa stanno facendo, si confronteranno e prima di tutto anche sostegno ai nostri amministratori, lavoro molto importante che stanno facendo, ma poi vuol dire la società economica, quello che esiste in una realtà importante come Bologna. infine, so che non c'entra niente, però credo che un po' di curiosità ci sia, insomma, adesso domattina torno a Roma, diciamo, e a me pare che la questione del Presidente della Repubblica si stia chiudendo piuttosto bene, non vorrei portare, diciamo, una sfiga, scusandomi del termine, però insomma mi pare che… vuoi essere franco? no, credo che il PD ci sta arrivando molto bene, sia come metodo, abbiamo discusso tante volte anche venerdì in segreteria nazionale, per me il metodo che sta venendo usato è il metodo più giusto, cioè intanto di condivisione di unità nel PD e anche di ascolto vero nel PD, nel senso che il candidato stato avanzato, ad esempio, era la priorità di Bersani nel 2013, quindi l'unità è stata costruita davvero con la qualità della proposta e poi un dialogo con tutte le forze politiche, noi questa proposta l'abbiamo messa a disposizione di tutti, gli unici che non sono voluti venire sono i 5 Stelle, ma nel caso l'ha dimostrata ancora una volta che non stanno in campo, insomma, su quello che anche penso dovrebbero fare per il loro elettore, per quello che sarà il Presidente della Repubblica anche, ovviamente di chi ha votato 5 Stelle e poi sulla personalità, insomma, io sento un clima molto buono anche tra i cittadini su questa proposta, è una personalità di altissimo profilo, è stato un bravissimo Ministro della Difesa e si dimentica sempre il ruolo che ha il Presidente della Repubblica in materia di politica di difesa, che in un momento così non sono una cosa da poco, è un grande costituzionalista, è quello che ci ha dato forse la legge elettorale migliore che finora ha avuto il Paese e poi anche nella sua famiglia, insomma, testimonia della lotta contro la criminalità organizzata, contro la mafia, insomma, qui personalità secondo me è assolutamente all'altezza, si è tenuta molto alta la sticella e questo consente anche di essere più forti nella proposta, noi ci arriviamo molto bene come PD, secondo me le possibilità di chiudere la domani ci sono veramente tutte, se fosse così secondo me questo sarebbe un passaggio molto positivo, insomma, prima di tutto per il Paese ma anche per noi, anche per il Partito Democratico perché si affronta anche con unità vera, che nasce da una condivisione vera, non da un'imposizione e nasce appunto anche dal profilo, dalla qualità della proposta, insomma, però appunto questo poi lo commenteremo da domani pomeriggio in poi, però, insomma, io guardo l'appuntamento di domani con molta fiducia, insomma, non dico serenità che questo periodo vi ho impreso male, diciamo con la buona guarda, con grande fiducia l'appuntamento di domani, grazie ancora e l'avventura. Grazie.